Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto oggi voglio presentare questa fantastica Audi A1 30 TFSI Sportback cambio manuale, 116 cavalli benzina nel colore bianco nella versione Advance del 2019 con solo 16.000 km vettura ex dipendenti Audi che arriva direttamente dalla Germania una vettura molto ben accessoriata con fare full led davanti e dietro ruote in lega guardate che bella sensori parcheggio posteriore la vettura veramente in perfettissime condizioni guardate che bella l'Audio A1 con 16.000 km praticamente è nuova se ve la faccio vedere internamente vedete i fedeli praticamente sono usciti dalla fabbrica 16.000 km guardate che bella andiamo a vedere all'interno andiamo a vedere il baule molto spazioso andiamo a vedere la parte anteriore a destra che è pari al nuovo guardate vettura perfetta stupenda bellissime questi fari a led ora andiamo a vedere i due accessori interni eccoci qua vedete 16.000 km volante multifunzione cruise control Audi lane assist radio poi abbiamo anche l'Apple CarPlay volete attaccare un telefono vedere il navigatore dentro abbiamo sensori di parcheggio posteriore il bluetooth media e interface e quant'altro due prese usb una grande e una piccola clima automatico se siete riscaldati vettura veramente stupenda con queste modanature dentro in nero lucido la vettura noi la consegnavo con 36 mesi di garanzia il tagliando fatto odio e tutti i filtri tappetini in gomma libretto di istruzione italiano doppie chiavi lucidature esterne sanificazioni interne la vettura la trovate da bianco auto a motta dei costitoli d'asti per info 0141 96 92 14 o info chiocciolabiancoauto.it e ricordatevi 36 mesi di garanzie 1000 TSFI 116 cavalli cambio 6 marce una vettura spettacolare ciao a tutti alla prossima